La Puglia resta in zona arancione assieme a Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano, mentre tutte le altre regioni e province autonome si tingono di giallo. È quanto deciso dal Ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia per l'emergenza Covid. Speranza in serata firmerà le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani, domenica 31 gennaio. Nonostante il mancato passaggio alla zona gialla, resta sotto controllo l'emergenza epidemiologica in Puglia. Infatti, nelle ultime due settimane, come certificato dai giornalieri bollettini della regione, la curva dei contagi è visibilmente in calo, ma destano preoccupazione ai dati ospedalieri. Al momento sono oltre 1.500 i pugliesi ricoverati, di cui più di 160 in terapia intensiva. È proprio quest'ultimo dato. È nettamente superiore alla soglia d'allerta fissata al 30%. Al momento sono occupati il 40% dei posti letto disponibili. Complessivamente la situazione è in lieve miglioramento in tutta Italia. L'unica regione classificata come ad alto rischio è l'Umbria, mentre l'indice RT nazionale scende a 0,84. Scende anche l'RT puntuale della Puglia a 0,95, con un'incidenza di 165 casi su 100.000 abitanti. Intanto Michele Emiliano ha espresso la sua soddisfazione per la conferma della Puglia in zona arancione. Secondo il governatore, il modo migliore è per tenere a bada la curva epidemiologica, sebbene restino chiuse diverse attività che dovranno essere necessariamente ristorate. Restano dunque in vigore le seguenti restrizioni. Non è consentito spostarsi fuori dal comune di residenza, tranne che per motivi di lavoro, urgenza o salute. È consentita invece la circolazione libera nel proprio comune e si può anche far visita a parenti ed amici, una sola volta al giorno, al massimo in due persone, dalle 5 alle 22. Bar, pasticcerie e ristoranti sono aperti solo per asporto dalle 5 alle 22. Bar senza cucina ed enoteche devono sospendere l'asporto alle 18 e invece consentita senza limiti di orario la consegna a domicilio.